Tre grandi feste in appena una settimana a Geraci Siculo per festeggiare tre centenarie. Nel borgo Madonita che fa parte del circuito Bella Sicilia, è stata una settimana piena di gioia, sorrisi e tanti abbracci per celebrare tre nonnine. Si tratta di Maria Rosaria Macaluso, che ha compiuto 101 anni, Gaetana Zangara, che ha compiuto 102 anni e Giovanna Fazio, che ne ha compiuti 101. La comunità geracese, con in testa il sindaco Luigi Iuppa, ha voluto celebrare queste tre grandi donne d'altri tempi. E a Geraci adesso sono ben cinque le donne centenarie, che vivono nel borgo, in perfetta salute e lucidità mentale, tiene a precisare il primo cittadino. Si vede, commenta il sindaco, che l'area del nostro borgo Madonita fa bene, e poi qui si trovano prodotti freschi e genuini. Celebremo con gioia queste persone, che rappresentano un patrimonio di cultura e testimonianze del passato, che non va assolutamente disperso. Intanto nel borgo delle Madonie, altre due donne si apprestano a raggiungere quota 100. A breve festeggeremo altre nostre due centenarie, dice il sindaco, e così a Geraci diventeranno sette le persone che hanno raggiunto e superato i cento anni, e sono tutte donne. E mi piace sottolineare che sono donne in buona salute, che camminano ed escono, ed ancora lucide. Ormai da tempo Geraci Siculo è candidata a diventare la sesta zona blu del mondo. Si tratta delle zone in cui la speranza di vita è notevolmente superiore rispetto alla media del pianeta.